Il Sud è fondamentale per i beni culturali italiani e per le industrie culturali creative. Dario Franceschini torna a Napoli da ministro del nuovo governo giallorosso con il presidente De Luca e il sindaco De Magistris ha aperto gli stati generali della cultura nel teatrino di corte di Palazzo Reale. Investire su una regione che investe su se stessa. Io lo dico senza... non è che lo dico perché sono qua a Napoli, Campania, lo posso dire in qualsiasi... lo dico in qualsiasi altra parte d'Italia. Non c'è regione al mondo, non in Italia, non c'è regione al mondo che abbia la stessa potenza culturale di questa. Patrimonio di arte, di paesaggio, di bellezza, di archeologia, di mare, di creatività, di teatro, di storia, di borghi, di città d'arte, di cinema, di musica, di sole. Non c'è un posto al mondo che abbia questo patrimonio. E allora se è così, se è così, tutto si investe qua e tutto diventa possibile. Quindi io voglio dire soltanto questo, investite su voi stessi. Io non soltanto starò al vostro bianco, ma starò in mezzo a voi per investire in questa battaglia in cui il futuro si crea sulla bellezza. È stato il governatore De Luca ad aver fortemente voluto questa iniziativa. La regione ha investito negli ultimi anni mezzo miliardo sulla cultura. Napoli offre più di Milano, dice il governatore, che annuncia anche la creazione del Polo del Cinema nell'ex base nato di Bagnoli. Franceschini, prima di rientrare a Roma, ha incontrato il soprintendente del San Carlo, Stefan Lissner. In questa occasione i più attenti hanno anche notato una inedita stretta di mano tra De Magistris e De Luca, che solitamente si ignorano. Già dopodomani il ministro tornerà in Campania negli scavi di Ercolano per l'avvio del cantiere di restauro della Casa del Bicentenario.